Salve a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti su questo nuovo video! Oggi siamo al secondo episodio di Five Nights at Wario 3! Oggi siamo al secondo episodio e dobbiamo fare la notte 3! La notte 3 ragazzi! Molti mi hanno scritto che mi devo nascondere nella bedroom 2 Che sarebbe questa stanza... Brutta! Ho letto qualcosina sulla bedroom 2, altrimenti non si capiscono niente! Io che devo fare? Bene, no! Hello, hello e vaffanculo! Dobbiamo controllare tutte le stanze! Ok raga, non mi ricordo se quando c'è Donkey Kong, io che cosa debba fare, non me lo ricordo raga! Sono un deficiente! Ragazzi, mi sono scordato... È che per lo spavento non ho fatto quello che... Dobbiamo riniziare di nuovo la notte, grazie! Notte 3, 12 di notte, Wario mi spunta sempre... Ma poi... Ma questa è la stanza, giusto? Cioè, io vado di lì e lì c'è la porta... Che cazzo ci metto la porta dietro il letto? Qui non c'è... Wario... Ciao, è Donkey Kong! Ciao, muori Donkey... Puoi riman... Non l'ho capito! No! Bedroom 2! Che cosa abbiamo? Problemi nella Bedroom 2! Manca la luce! Lenel! Lenel! Dove sei? Raga, che devo fare per non farmi ammazzare da Wario? Ma state scherzando? A pelo noi vediamo Wario nelle telecamere! Noi dobbiamo cliccare... Velocemente... Ecco, noi dobbiamo cliccare velocemente sulle telecamere così Wario se ne va! Hi, hi! Se spunta qui sono fottuto... Se spunta qui sono fottuto! Rimani qui Wario, rimani qui Wario, rimani qui Wario! Allora ragazzi, io devo stare attento, devo calmare Wario 12 di notte! Devo farlo andare sempre un po'... No, Donkey Kong mi ha fregato, Donkey Kong mi ha fregato come ha fatto a fregarmi! Sono morto! Donkey Kong mi ha fregato, sono morto, sono morto! No, no! Donkey Kong non mi ha fregato l'una di notte! Porca miseria! Ho capito come funziona! Ho capito, raga, ho capito! Cazzo ci facevo Donkey Kong là! Porca miseria! Porca miseria! Ho sbagliato! Io avrei paura a dormire pure sto letto qui con ste lampade qua! Perché poi se mi cadono in testa un incendio improponibile e non me lo toglie nessuno a casa mia! Resta qui! Maledetto! Maledetto l'una di notte! Donkey Kong non spunta? Grazie Donkey Kong! Grazie Donkey! Rimani fuori da qui, ti prego! Resta qui, resta qui, resta! E restaci per sempre! Posso rimanere così? Due di notte, due di notte! Due di notte non viene, due di notte non viene! Oddio, 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 raga! Ti prego, ti prego! Tre di notte, quattro di notte! Ti prego, quattro di notte! Ma io ti prego, bla, bla, bla! E miste, quattro di notte non arrivano mai! Quattro di notte! Porca miseria! Ok? Oddio! Donkey Kong, oddio! Cazzo, sta qui, Vario! Vario, non ti muore, Vario! Ti prego, resta in living room! Resta in living room! Oddio! Ok, raga! Ok! Ok, è tornato in cucina! Tornato in cucina, quattro di notte! Restaci! Per sempre, restaci! Beh, l'ha detto Mario! Mario, ti prego! Yoshi, aiutami! E Mario, pure tu! Cinque di notte, raga! Cinque di notte alla terza notte! No! No, resta qui! Dove vai? No! Che miseria, dov'è? Maledetto Donkey Kong! Sei di notte! Sei di notte! Sei di notte! Sei di notte, sì! Mamma mia! Riming Room 3 o Laundry? Che tanto sarò morto in tutte e due! Scegliamo la Riming Room 3! Sono pronto! Io devo stare attento ad... Non mi ricordo se... Yoshi va Luigi! Non mi ricordo, raga! Non so chi sono! Cosa ho fatto? Ho cliccato il libro! Caro diario! Altrimenti mi piace il mio nuovo lavoro! Sure! Vario e Luigi... Sono... A bit hard at times, but... Well, this is just what they are... Toad March 23... 1991... Ok! Allora, raga, dobbiamo controllare... Toad? Perch... Perchè era Toad? Ma non è che ci sa... Ci sarà Toad! No, no, no... Toad... Funculizzati! Good evening! Beh, spero di aver fatto bene! Raga, luna di notte... Non ho capito... Che cosa c'è da fare! Va bene, ok? Ok, così è minchia... Così... A cavolo! A cavolo! Non ho capito... Ciao, Luigi! È da tre ore che va Luigi... Sta là, fermo! Dove controllarlo ogni cinque secondi... Secondo me Yoshi mi ammazza! Yoshi! Sti suoni mi fanno paura! Sì! 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 Che c***o! Non poco, eh! Ciao, Yoshi! Va bene! Ok, ragazzi! Meglio finire il video di G-Quizze! Se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentatevi, invito a iscrivervi al canale, consigliatemi sotto il video quale senza fare per la notte 4 e noi ci rivediamo al prossimo video! Ciao!